Sì, è stato un bellissimo spettacolo, divertente, ma volevo sempre otto buco e poi tutti gli altri Sì, è stato bello, interessante, non so come minimamente come abbiamo fatto Sì, mi ha piaciuto bene, l'altro è stato davvero bello, a me è piaciuto Francesco quando mi ha piaciuto bene, la storia d'amore, la storia d'amore, la storia d'amore, bellissima Bracciucce, prezzi 10 come il quale No, il tavolino ragazzi, il tavolino che si alza da subito Io vorrei anche qualcuno che mi faccia volare il tavolino sarebbe da 10 Ciao!